Cari Enrico, tu non puoi sapere come sono contenta perché dovete sapere che oltre a essere dello stesso segno siamo amici da tanti anni e poi lui è stato il mio primo, anzi unico, capocomico in teatro. Non credo che questo ero io, ma no, anzi, cosa c'entra? No, no, è che poi ho scelto la televisione, quindi sono stati fatti così, mettiamola così. Sì, no, è vero, anzi sei la più brava. Che povero, ecco, lì poi ne parliamo, si doveva così, destreggiare con sei donne il teatro perché nell'Andrucce erano sei praticamente coprotagoni. Ah, erano donne, credevo vipere, mi sembravano vipere, ma per esempio, difficilissimo, sei donne ragazzi, una cosa, tenerle tutte e sei, una fatica, no, bravissime, gentili.